Abbiamo iniziato questa riflessione di questo 27 febbraio con un passo della Sagra Scrittura, cioè che la prudenza è elemento fondamentale nella guida della propria vita e quindi non si intende parlare della prudenza come furberizia, cioè di quel modo di agire orientato verso il male e il peccato. Non si parla della prudenza che impiegano i ladri per vedere come riuscire a scassinare una banca all'assassino che deve coprire il corpo del reato e a delle accortezze che si usano per nascondere le carte o falsare calcoli per ingiusti guadagni. San Paolo dice, contanna meglio tale tipo di prudenza perché fa trasgredire la legge di Dio. I desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. La prudenza umana possiamo riscontrarla anche in coloro che si incennano a non pagare le tasse. possibile ma è sicuro anche a sfuggire a pagamento delle tasse è un impegno, ma è un impegno negativo, dimenticando che anche Gesù non si sottrasse a pagare la tassa per il Tempio. Nella pratica della virtù si devono tenere presente tutte le circostanze e è imprudente starsene dalla mattina alla sera sempre in chiesa a pregare. È il lavoro, è l'educazione ai propri figli, è la responsabilità della conduzione della famiglia, è guadagnare un tozzo di pane. Cioè ci vuole un certo equilibrio perché in questo modo viene meno anche il principio di giustizia. Gesù ci avverte, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. La prudenza è eminentemente pratica in quanto in ogni circostanza ci dice quello che conviene compiere oppure quello che bisogna senz'altro scartare per attuare in pieno il progetto di Dio. Per evitare il peccato ci fa conoscere le cause e le occasioni del peccato e ci suggerisce i rimedi da applicare. Per progredire nella virtù siamo chiamati a compiere il cammino della santità che ci aiuta a scegliere tra le virtù la giustizia o la misericordia, il raccoglimento o lo zelo apostolico. Tutti abbiamo bisogno di questa virtù. A cominciare dai sacerdoti perché anche i sacerdoti, specialmente nel sacramento della confessione, hanno la possibilità di attuare questo cammino prudenziale nella direzione delle anime. I genitori per l'educazione dei figli, la povertà morale e materiale, i rapporti nelle preoccupazioni, e la guida anche della televisione, cioè sono tutti elementi che spingono una famiglia a un cammino sereno. Padre Pio adottava i consigli alla capacità dei singoli individui. A sua volta padre Agostino, non so se l'ho detto un'altra volta, un bravo, superiore, intelligente, però fatto a ferro battuto, cioè aveva il pugno forte, duro. Era tutto per l'osservanza della legge, innanzitutto. Cito soltanto l'episodio della festa di San Francesco. È chiaro che alla festa di San Francesco non esistono norme, c'è un senso di serenità, di gioia, eccetera. E il pomeriggio invece fa andare i frati in coro per la recita del vespro e poi per la recita del mattutino del giorno dopo e poi mattutino per i defunti, per i benefattori defunti, eccetera. Quindi un pomeriggio passato in chiesa a pregare. Alla fine, venti minuti di meditazione. Io non so che cosa abbiano pensato i frati durante quel tempo di meditazione, se era proprio prudente o meno prudente quel modo di agire del padre Agostino. Finalmente padre Agostino dà il segno di uscire dalla coro, dalla chiesa. Al termine, quindi, dell'incontro fraterno di preghiera. Nell'uscire è chiaro che i frati borbottano e padre Placido si trova a fianco a padre Pio uscendo dalla chiesa e vede che padre Agostino sta ancora in chiesa e allora dà una gomitata a padre Pio e dice adesso padre Agostino è in chiesa, che cosa sta facendo? E padre Pio, serio, sta dando gli ultimi ordini al padre eterno. Padre Pio con una frase bellissima mette in chiaro che ci vuole la prudenza in tutte le cose, anche nel campo della preghiera. Pio con una frase bellissima mette in chiaro che ci vuole la parola. Più con una frase bellissima mette in chiaro che ci vuole la parola. Grazie a tutti.